Benvenuti, benvenuti, e indovinate un po' cosa stiamo facendo? Dai che lo sapete, io sono il fundo di Gamesurf e oggi stiamo giocando insieme a voi mentre sto controllando la chat Ok, direi che è tutto a posto Ah, Forza Motorsport, il ritorno del simulatore di guida di Microsoft Allora, cari ragazzi, cari ragazzi, andiamo subito in corsa Vabbè, come vedete ho già giocato un bel po' a questo titolo C'è la mia recensione su Gamesurf.it ovviamente e potrete trovare il mio voto che è un rotondissimo e soddisfacentissimo per me anche perché la recensione ragazzi è sempre un parere anche se cerchiamo di renderlo il più oggettivo possibile 9, 9 ragazzi è un gioco, se mi permettete, della madonna Veramente, ragazzi, ho letto in giro per il mondo qualche parere un po' freddo ma ragazzi ora lo vediamo insieme, c'è poco da fare Qualsiasi cosa vi vogliate dire, qua sulla chat che seguo mentre ci dedichiamo a forza, potete dirmi tutto quello che volete Insulti magari no, ecco Allora, questa è una gara carriera Prima degli eventi delle gare carriera Potrete, potrete correre le prove I giri di prova I giri di prova sono totalmente opzionali Non siete costretti a farli Il gioco ne seleziona tre Anche se c'è scritto obbligatorio Nessuno mi evita di schiacciare questo pulsantone che si chiama Option Di andare su Esci e saltare le prove E si va direttamente in gara ragazzi, eh Però da pilota virtuale, quale vorrei tanto essere ma ancora non sono Ho trovato l'inserimento delle prove molto buono Perché il modello di guida è talmente ben fatto Talmente differenziato, talmente elevato Che ogni macchina Ecco qua dovevo frenare, non me lo sono ricordato Ogni macchina è da gestire in una maniera diversa E ogni situazione, ogni momento della giornata Condizione climatica Oppure ogni circuito ovviamente È diverso Buttarsi nella gara così dal nulla A meno che non si giochi con tutti gli aiuti alla guida Attivati e a difficoltà infime Con il Con il Riavvolgimento che io In questa prova Non userò E durante la recensione Ho usato molto poco Ho voluto provare la vera esperienza di Forza Motorsport Ho preso delle gran facciate Ma Ho voluto vedere Il modello di guida completo Come lo stiamo guardando in questo momento Anzi poi ricontrollo un attimo le opzioni Ma mi sembra onestamente di aver lasciato quelle che avevo In questi giorni Ho avuto il gioco Come gli altri recensori ovviamente Con diversi giorni d'anticipo E questo mi ha permesso di passarci Un bel numero di tempo Sin da subito Che cosa colpisce di Forza? La prima cosa è la grafica La prima cosa è la grafica Perché la grafica è stupenda È veramente stupenda E Come potete vedere Io non so se Se da Twitch Si riesce a vedere effettivamente La bontà del prodotto grafico La grafica è veramente ben fatta E avrete tre opzioni grafiche Da utilizzare Quella prestazioni Dove i 60 fps sono granitici Granitici Non si perde un frame ragazzi Questo è veramente importante Perché anche altri giochi Di guida Che io ho recensito E che mi sono piaciuti tantissimo E che avevano un'ottima grafica Ogni tanto qualche frame lo perdevano Qua no Non so cosa dirvi Hanno lavorato veramente benissimo Dal punto di vista grafico Guardate un attimino Allora il photo mode Siamo in game Siamo nel photo mode E andiamo un attimino a vedere La bellezza del modello della macchina E vi assicuro Che questa è riportata Su tutti Scusate Sono invegentato Si dice a Genova Su tutti i modelli disponibili E attualmente sono più di Più di 500 Allora guardate un po' Cosa possiamo andare a fare Innanzitutto andiamo a vedere I riflessi che ci sono Sulla carrozzeria Qua siamo in modalità mediana Quella prestazioni Ma con ray tracing Anche questa Ha i 60 fps Granitici La risoluzione Non è costante Mentre se vogliamo giocare In modalità grafica Andiamo sui 30 fps Sempre granitici E abbiamo il 4k Io sinceramente Gioco di guida I 30 fps Non li voglio Voglio i 60 E comunque L'impatto è ottimo È veramente ottimo Guardate Vi faccio un po' vedere Andiamo un po' a sbirciare Guardate quanto stiamo zoomando Quanto stiamo zoomando Quanto riusciamo ad andare a vedere Guardate questo Questa pinza dei freni Questi bulloni Ma sì Però ora iniziamo a perdere Guardate Qua perdiamo tantissimo Ma dove siamo dovuti arrivare Per perdere questo livello E tutto questo Il gioco me lo gestisce A 60 fps Se non è Next gen questa Ragazzi Dai Non Non scherziamo Perché Veramente Guardate un po' L'impatto visivo E vi assicuro Che tra poco Giocheremo Una gara Contro altri 20 Non mi ricordo Piloti virtuali E continueremo E continueremo a non perdere Un frame Neanche Neanche volendo Neanche nei momenti Peggiori Neanche nei momenti Più complicati Per il motore grafico Quindi ragazzi Già qua Questa è la prima cosa Che salta all'occhio Io vi dico la verità Mi ha veramente colpito Tanto Veramente tanto Non so se sentite Il rombo dei motori Che è ottimo Se non lo sentite Ditemelo in chat Lo aumentiamo Anzi fatemi un po' Vedere Tanto qua Siamo in prova Vediamo un po' Ok ok Si sente Va bene Perfetto Ok Noi delle prove Ce ne freghiamo Perché Stanno andando male Non abbiamo tempo E Usciamo E saltiamo le prove Vuoi davvero saltare le prove? Sono Una prezionata occasione Per ottenere Crediti Punto esperienza auto Ma non sono obbligatori E una volta arrivati Dal terzo giro C'è un'opzione Per terminare Le prove Ma Se andate avanti Non succede niente Andate avanti Vi studiate il percorso Ovviamente però La benzina Si Si va A Consumare Allora Difficoltà Stiamo usando Stiamo usando le regole esperto Ok Il livello dell'intelligenza artificiale Abbiamo messo Un 5 E vi assicuro che Tarellano Vanno come dei disperati Questa è la nostra vettura Abbiamo la possibilità Di metterla a punto Cioè Ok Questo ve lo dice sempre A meno che Non scegliate l'opzione Per non farvelo dire più Ci sono Tutte queste cose qua Ovviamente Alcune Non sono Queste utilizzabili Perché non ho ancora Il Non ho ancora comprato Il kit Che poi non si compra Ma va bene Parliamo dopo Ok Vai alla gara Qua Questa È un'opzione Un po' particolare Nel senso che In base A dove Vorremmo partire Ma non si può partire I primi e secondi Con questa tecnica qua Quindi sono 24 In gara Se ad esempio Scelgo di partire decimo Come vedete Guadagno Un bonus Se scelgo di partire terzo Ovviamente Parto più avanti Ma Il bonus Posizione in griglia Si Si abbassa Noi Partiamo Noni Dai Partiamo noni Ok Mi devo mettere Un po' di impegno Perché Come vi ho detto Non ho messo Rewind O rewind Come al solito Ok Andiamo a studiarci Un attimino Sono 4 giri Non ha senso Stare con 12 giri Di carburante Lo portiamo A 5 Perché io ad esempio Ho una guida Molto Molto Poco Morbida Quindi tendo A consumare Un po' di più Del normale Ok ragazzi Stiamo partendo Ragazzi È veramente È veramente Bello È veramente Bello E Ho Avuto Le stesse Le stesse Gioie Gran Turismo 7 Però Però se siete giocatori Di Gran Turismo 7 Sapete che Ray Tracing In gara Non ce l'avete E sapete che Qualche scattino Si vede Ok Allora Intanto Guardiamo una cosa interessante Il sistema di penalità Sono stato colpito Quindi ho partecipato A una collisione Se la collisione Fosse stata Mia Voluta Dolosa Avesse buttato fuori qualcuno Avrei preso una penalità Non indifferente Ma l'intelligenza artificiale Desce a capire Se È colpa mia Se non è colpa mia Se ho preso vantaggio Se non ho preso vantaggio E in base a quello Gestisce le penalità Stessa cosa Per i tagli di pista Scusate Un piccolo Sicchio Un sacco qua Sono stato fuori pista Ho combinato un danno Lui adesso Vedete Ecco Nessuna penalità Perché effettivamente Non ho guadagnato nulla Vediamo se questa Costa la collisione Invece potrebbe costarci nulla No Per fortuna No Ok Ecco Questa vettura Non l'avevo ancora Guidata No In realtà l'avevo guidata In una prova Modalità di guida Le modalità di guida Ragazzi Cioè Scusatemi Il modello di guida Il gameplay Il drive play L'ho chiamato In recensione È Ottimo È veramente Ottimo In turn 10 Il team di sviluppo Ragazzi Hanno lavorato come bestie Secondo me Sull'impatto grafico E sul modello di guida Hanno lavorato Un po' meno Nel contorno Nel senso che La La carriera È veramente La solita La solita Classica carriera Dei giochi di guida Non ci sono Particolari extra Non ci sono Schede Vettura Se non Le prestazioni Tipo Come in Gran Turismo Non c'è Non c'è qualcosa di simile Al GT Cafe Non ci sono Le schede Dei costruttori Non ci sono Le schede Delle macchine Questo Rende un po' Tutto molto Asettico Ciao Motor nerd Ciao 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 Però già Cavolo Motor nerd Io già mi spavento Perché mi sa che sei Sei Un grande appassionato Di motori Ho paura Di Di non essere A livello Se hai qualche domanda O se hai qualche parere Io sono Qua Felicissimo Scusate ma non ho La chatta a schermo Quindi ogni tanto Controllerò E mi sembra Che ci sia Un Dionist Ok va bene Non importa Per leggere Mi sono incriccato Ma tanto ragazzi Qui stiamo soltanto Ecco Altra cosa Collisioni Collisioni Ricreate Il reboot Non è stato Tanto Eccolo Vabbè Ho distrutto Distrutto la sospensione Non è stato Tanto dal punto di vista Della tipologia di gioco È quello È quello Non cercate Qualcosa di innovativo Nelle modalità Di forza motorsport Non c'è Però ragazzi La qualità di guida La Non siamo Su assetto corsa Non siamo Ancora arrivati Ma ci siamo vicinissimi Ci siamo veramente vicinissimi E per un titolo Di questo genere Voi lo sapete Che non sono Propriamente simulazioni Forza E gran turismo Sono quasi Simulazioni Le definirei Però ragazzi Siamo arrivati A un punto Veramente elevato C'è un'accessibilità Totale Totale Per chiunque Si può giocare Chiunque Ragazzi hanno fatto Una modalità Per giocare Per far giocare I non vedenti Allora Vediamo un po' Non preoccuparti Non mi metto A fare l'espertone Ma in realtà Motor Se sei espertone A me fa solo Che piacere Perché a me il gioco È piaciuto tantissimo Però se riusciamo A scambiarci Qualche parere Magari tu sei già giocato Giochi della saga Niente Ora però Non mi gira più Va bene Non c'è problema Tanto ragazzi Volevo giusto Farvi vedere Qualcosina Dell'evento Giocavo a GT7 A me GT7 è piaciuto Veramente tanto Ho 120 ore di gioco E ti assicuro Che Per un recensore Essere riuscito A mettere 120 ore di gioco Su un unico titolo Perché Ovviamente Poi ogni Ogni settimana Siamo Siamo dietro A particolari Questo Fatelo Questo è il tutorial Fatelo Io l'ho fatto una volta L'ho iniziato La seconda volta Perché Alcune informazioni Me le ero un pochino perse GT7 Per me è stato Veramente Un gran gioco E qua siamo a livello Ho dato un voto Uguale Ho dato un voto Uguale Perché Secondo me Qua In forza Vi faccio vedere Si perde un po' L'amore Per la macchina Cavolo Gran Turismo 7 È una dichiarazione D'amore Per Per il mondo Delle automobili Qua Un po' meno Ci sono Tantissime Tantissime Vetture 500 Più di 500 E ne arriveranno Tante altre Però Vedi Io ad esempio Sentro su Audi Non ho la scheda Audi La scheda che ho Della Della vettura È questa Cioè Velocità Controllo Accelerazione Invece che Che bello era L'online Sì È già accessibile Almeno Ho avuto Accesso all'online Nel senso che Ci sono stati ricreati Degli eventi Dove abbiamo potuto Partecipare Noi recensori E addetti ai lavori In cui abbiamo fatto Delle gare Tante persone Perché dovevamo Un attimino Mettere sotto stress I server Andati alla grande Non c'è stato Veramente nessun problema E l'online Ver e proprio Però partirà Con Con L'uscita del gioco In anticipo Che sarà domani Però l'ho provato E Mi sono trovato Veramente bene Poi abbiamo La solita Ecco la parte Un po' più Maniacale È Questa qui L'autovista Si chiamava Si chiamava Tempo fa Ciao Ma gli avete dato 9? Sì io gli ho dato 9 Eroi in che senso Non mi insultare Però dai Lo so che sono stati Dati voti Anche più bassi Eh lo so Ma onestamente Non mi sarei sentito Bene con me stesso A penalizzare Un titolo Di questo genere qua Allora Qua c'è il solito La solita possibilità Di andare Dentro la vettura Guardare un attimino Come è stata Ricreata E via dicendo Qui ci sono tutte Le varie opzioni In molte Puoi aprire i cofani Ecco qui Puoi andare a dare Un'occhiata dentro Ma qua Siamo proprio A livello Di Di mania Ecco Ovviamente C'è Verniciatura Tutto quello Che volete fare Non Non manca nulla Qua vabbè I vinili Ma Vi stia a far vedere Una cosa del genere Discorso particolare Bisogna fare Per La messa a punto Le prestazioni A messa a punto Si guadagnano Portando avanti Il livello Della macchina Questa ad esempio È una macchina Di livello 1 Non ci ho fatto nulla Non posso farci nulla Vi faccio vedere Come funziona Invece Sulle vetture Che ho utilizzato Di più Allora Allora Vediamo Poi mi sono divertito Ovviamente Tantissimo Con la Toyota Supra Questo è un sistema Un po' particolare Perché non dovete Andare a comprare Ad esempio Qua Gli scarichi I filtri Andando avanti Con il livello Della macchina Quindi questa L'ho usata tanto L'ho portata A livello 30 Avrete a disposizione Guardate In alto a destra I punti Quei punti Permettono Di sfruttare Nuovi elementi Ad esempio Voglio Cambiare Questo Quanto mi costa 200 punti Io posso utilizzare Punti Finché Vado A non superare Quel 4250 Tutto questo Può essere fatto Anche con il potenziamento Rapido Se io faccio il potenziamento Rapido Lui mi porta La macchina Al massimo dei punti Cercando di mantenere Ui Ui Quanto stai calcolando? Ok Cercando di mantenere Un equilibrio Vedete Ha portato su Accelerazione La velocità Controllo Frenata E quant'altro Le penalità Ti toglie Secondi Ti toglie Secondi Ti toglie Secondi Posizione Prima del calcolo La penalità Non mi dà La penalità Questa secondo me È una figata Vuol dire che L'intelligenza artificiale È veramente È stata studiata Studiata per bene E considera che Comunque la recensione È stata fatta Prima dell'uscita Della patch Finale Sulla velocità E scegliere Altre Altre messe a punto Ma torniamo Torniamo a noi Torniamo in pista Ragazzi Allora Altra modalità Gioco rivali Questa mi è piaciuta Ovviamente Stiamo Stiamo a prendere Una modalità Molto Molto lineare Ma ve l'ho detto Siamo molto Sul lineare Allora Noi scegliamo Un circuito Scegliamo Una tipologia Di vetture Ad esempio Andiamo qui Catalunia Dai Seleziona tracciato Va benissimo Sì Cos'era C o B Cosa avevo messo Vabbè Prendiamo Prendiamo Noleggiamo Dai Per fortuna Noleggio Non si paga Ma questa ce l'ho Questa ce l'ho Vabbè La noleggio così Perché probabilmente Non cambia niente Probabilmente Io l'ho Intruzzata Troppo E ho portato La potenza Un po' troppo In alto Per questo Per questa modalità Niente È molto semplice Semplicemente Noi faremo Dei giri veloci Giri veloci Andranno in classifica Mondiale Di volta in volta Vedremo il Fantasma Del giocatore Che è prima di Appena prima di noi Questo secondo me È molto divertente Non c'è bisogno Di De planetari Rimpiango il buon vecchio Project Cars Oddio Project Cars L'ho Giocato Con Con enorme piacere Ma è passato Talmente Tanto tempo Il 2 Ricordamelo però Il modello Di penalità Perché Perché Non Non mi Sovviene Quindi io qua Adesso Vado a fare I miei giri E Continuo Di volta in volta Senza dover Fermare la partita Ad avere nuovi Fantasmi In base a dove Sono arrivato Col mio giro Questo ovviamente Non è un giro Lanciato Quindi sarà un giro Di cacca Comunque Tornando al voto Fermo restando Che parlare di voti È sempre un po' Particolare Però E Oddio Se siete elettori Di Gamesurf E Avete un po' Visto le mie recensioni Sapete che io Solitamente sono Vi dico sempre Che sono Di manica stretta Però Ragazzi Qua Un gran lavoro Allora Su Project Cars Se facevi qualche cavolata Dovevi ridare la posizione Ok Quindi dovevi ridarla E poi ti dava tempo Se non la ridavi a tempo Immagino Ti Ti penalizzasse A Project Cars Era Un'ottima serie Forse Forse Non so se sarai d'accordo con me Eh Esagerava un po' Col sovrasterzo Mentre qua La base Qua la base Un po' Sottosterzante Ma ovviamente Hai talmente tante cose Da poter modificare Però Project Cars È un peccato Che non si sappia niente Del Del nuovo episodio Perché Me lo rigiocherai volentieri Adesso finiamo il giro Così possiamo vedere Un giro Serio Con Però tra l'altro Lo stiamo anche riprendendo Il Il fantasma Un po' No guarda Jolly Jolly Lascia perdere Non so chi te l'abbia detto Ma Guarda Eh Allora Ti Ti rimetto Non so se sei arrivato O quando sei arrivato Ti faccio rinotare La modalità foto Qua siamo In modalità prestazioni Eh For Oh Marco Aspetta Prima Prima Jolly Perché se no poi mi perdo Siamo in modalità prestazioni Quindi siamo a 60 fps Senza il 4K Non so cosa vi restituisce Il Il vostro monitor Il vostro telefono In questo momento con Twitch Ma Qua Siamo in modalità prestazioni E Ti faccio notare In zoom 4x Che Lavoro è stato fatto Qui siamo in zoom 4x Modalità prestazioni E Foto mode In game Non siamo nel Foto mode Del Non siamo nel Foto mode Della Dell'autovista Dove sicuramente Ci sono più filtri E qua Soprattutto Abbiamo 60 fps Granitici Veramente Ragazzi Non perde Non perde Un fps Assolutamente Ho provato Ad andare Contro In curva Ad altre 5 persone Le ho provate tutte Il motore grafico Non perde Un colpo Assolutamente Quindi Per quanto Mi riguarda Il photo mode Cioè scusami Il photo mode La grafica È davvero Ottima Non Non so Veramente Cosa si possa Chiedere Di più Siamo Veramente A livello Di fotorealismo No GT7 O forza A parte Che ho dato Lo stesso Voto A entrambi I giochi Perché li ho recensiti Tutti e due Io E Faccio Veramente Fatica A dirti Cose meglio Ma ti posso Dire Le differenze Graficamente Gran Turismo 7 Utilizza Un motore grafico Un pochino Più Brillante Colori Un pochino Più Brillanti Ma Ha un motore Grafico Che non Non sfrutta Il retracing Qua abbiamo Il retracing E ha un motore Grafico Che se hai giocato GT7 Sai che in alcune Situazioni Fa un po' Fatica E Ora io Non sono L'amante Dei 10.000 FPS Al secondo Stabili Per forza Se un gioco Mi diverte Mi diverte Lo stesso E come dicevo Prima A motor Su Gran Turismo Nonostante Gli impegni Da recensore Sono riuscito A mettere Su 120 ore Di gioco Circa 121 Ricordo Quindi mi è piaciuto Veramente Da matti Modalità Quindi Grafica Secondo me Qua siamo Passiamo Un passo Avanti Modalità Ecco qua Una bella cavolata Modello di guida Modello di guida Allora Qua A mio parere Abbiamo un grosso problema Non legato Al modello di guida Ma Al fatto che Su Playstation 5 Ragazzi Ci siamo abituati Talmente bene Con il dual sense Che Tornare a un gioco di guida Senza il dual sense È un passettino indietro È un passettino indietro Quindi per me Marco Il dual sense Quando si tratta Di giochi di guida Se Ho la possibilità Vado sempre Su Playstation 5 E Che bello Ho sconfitto 10 rivali Finalmente Ad esempio The crew Motorfest Il nuovo The crew Che però È un arcadozzo Ci mancherebbe Un bel arcadozzo Ma un arcadozzo Me lo sono giocato Su Playstation 5 Perché il dual sense Vabbè ragazzi Andiamo a fare una gara Dai inutile che continuo Qua da solo Il dual sense Per me È È Religione Qui come gameplay Hanno lavorato benissimo Gli Ci sono i danni Ci sono i danni Realizzati In maniera vera In maniera vera In Gran Turismo Sai che i danni Invece Sono stati un po' messi così Qui il modello di danni È Perfetto È veramente perfetto E Quindi come vedi Abbiamo Dei pro da una parte Dei contro dall'altra È una domanda Molto difficile Altra cosa che dicevo Ok su Gran Turismo Abbiamo Più varietà Più varietà Nella carriera Facciamoci una carriera Facciamoci una Qualcosa da capo Dai Una Mascol Mamma mia Le Mascol Mi mettono in difficoltà Nel senso che La carriera Di Gran Turismo Ti dà Il GT Cafè Ti dà Tantissimi Cosa compriamo Cosa compriamo Raga Dai I soldi ce li ho Ho giocato tanto Ho già tirato su una milionata Dai Il primo che mi dice Cosa comprare La compro Tanto Sono soldi virtuali Che mi frega Poi ti dico In Gran Turismo C'è più varietà Assolutamente Poi c'è anche La modalità Mustang Grande Perfetto C'è anche La modalità Musicale La modalità musicale È molto carina Non ti cambia Il gioco Colori Vediamo un po' Qualcosa di Tamarro Qualcosa di molto Tamarro Sono una persona Molto Tamarra Ok Cioè Secondo me Gran Turismo È molto più vario Forza Si è messo Sul suo binario È andato Sul Sulla base Si ha fatto La Prestazione Vediamo se possiamo Già fare qualcosa Non penso No Qualcosina Riusciamo a fare Ha fatto Dal punto di vista Dei contenuti Una carriera Classica E Non c'è Una carriera Non c'è Un minimo Di tentativo Di Mettere quel qualcosa In più Però Come grafica E come modello Di guida Con i danni Con i danni e tutto Ti devo dire Che si Si gode Un po' di più Si gode Un po' di più Però ragazzi Quando tu apri Un gioco di polifoni Vedi proprio Che hai davanti Degli innamorati Della guida Assolutamente Assolutamente Allora Vediamo Un po' Allora Ho mantenuto Soltanto La Traiettoria Per le curve Poi tutto il resto Non abbiamo Rewind Non abbiamo Curve Non abbiamo Sterzo Assistito Non abbiamo Non abbiamo Frenata Assistita Ovviamente Anzi ragazzi Se c'è qualcuno Che si sta avvicinando Ai giochi di guida Io do sempre Questo consiglio Date delle Gran facciate Fregatevene Prendeteli Scusate se metto in pausa Ma per guardare la chat Se qualcuno Qualche domanda Prendetevi il vostro tempo E imparate un modello di guida Il più possibile Simulativo Se avete voglia Capisco tutto Ma secondo me Il senso di questi giochi È sfidare Il modello di guida E vi parlo da Giocatore molto Molto matusa Molto vecchio Però ad esempio Con GP Legend Non so se qualcuno Se lo ricorda Su PC Ai tempi che furono Passavo le giornate Non riuscivo a fare Neanche una curva Ma ragazzi La volta che sono riuscito A portare a casa Un giro Ho goduto Poi sono iniziato Pian pianino A vincere qualche gara online E via dicendo Però Secondo me Non sono i giochi Da giocare in modalità arcade Non facciamo i giri Obbligatori Che poi Come abbiamo detto Non sono veramente obbligatori Saltiamo le prove E andiamo in gara Ok Ok Comunque veramente Ragassuoli miei Jolly Jolly 833 Mi riferisco Un attimino A te Ma io ti giuro Che Posso trovare Ci sono dei difetti Assolutamente Ripartiamo dal decimo posto Dai Questo gioco Ha dei difetti Ma onestamente Proprio la grafica Non riesco a capire Cosa si possa chiedere Di più Assolutamente Ma anche a fronte Di quanto Mettiamo un po' Posto il serbatoio Perché ho troppa benzina Mettiamo i nostri Miei soliti Giri standard Più uno Qui sta la mia guida In stile Trattore I difetti ci sono E ne ho parlato In recensione E sono Sono Laterali Diciamo Sono problemi laterali Però ragazzi Modello di guida E grafica Per me Non si discutono Penso che Vediate anche voi Comunque A parte I più I particolari Più Picini Che sicuramente Da Twitch Non si possono vedere Forse magari In base Alla connessione Non si riesce Anche a capire Il fatto che I 60 Uuu Ho messo fuori una ruota I 60 fps Sono Perfetti Perfetti E qua stiamo giocando Con ray tracing Scusate Lo so Chi sta seguendo La Trasmissione Dall'inizio Penserà che sono Un vecchio sclerotico Vecchio sì E anche sclerotico Che continua a dire Le stesse cose Però Urca Qualcosa è successo Ecco Collisione Sicuramente Non ci darà nulla Perché non abbiamo colpa Infatti Abbiamo approfittato Di un Bel casino Dei nostri avversari Motore La trazione Delle Mustang Mi crea sempre Qualche problema Storicamente Comunque Secondo me Farà tanto L'impegno Che storicamente I team Che lavorano a forza Sia che siano I turn 10 Su La serie Principale Sia che siano I playground Su Horizon Continuano a Portare avanti Durante La vita del gioco Se voi accendete Adesso Forza Horizon Nonostante sia uscito Due anni fa Continua a sfornare Una marea di roba Se piovesse Ogni settimana E qua sicuramente Ragazzi hanno già Annunciato il pacchetto Macchine D'ottobre Arriverà una marea di roba Poi è ovvio Io sono un gran fan Delle modalità Delle modalità Storia Modalità storia Di Formula 1 Se qualcuno di voi Secondo me Motor Se lo ricorda Toka Toka Race Drive Che oltre al gioco Aveva anche La modalità storia Dove si impersonava Un pilota Al gioco Tra l'altro Aveva anche Un discreto Modello di guida Un arcade Ma va bene Per l'epoca Andava più che bene Mi piacerebbe Vedere queste cose A dare un pochino Di varietà Ai titoli di guida Però Evidentemente Da questo punto di vista Non ci sente nessuno Mamma mia ragazzi Che Sono macchine Le mustang Sono macchine D'un fascino Assoluto Ma Guidarle Videoludicamente Perché non ho mai avuto La fortuna Di guidarne una Dal vivo Sono tra le più Impegnative Con quel loro Sederone Pesante Toka Lo ricordo Ma non l'avevo mai giocato Eh tocca È stata una bella serie Che poi è quella Che è diventata Grid Sai che io Project Cars Però Nonostante Il team di sviluppo Sia stato sciolto Sai che secondo me Da qualche parte Un quarto episodio Qualche lavoro Qualcuno ci sta mettendo Le mani Puoi fare una ricerca Perché Mi hai fatto tornare Una bella pulce Nell'orecchio Altra cosa Che Avrei gradito Non tanto Per come gioco io Però Secondo me Avrebbe Dato Un segnale positivo La gestione Dei rewind Qui la gestione Dei rewind È Così fatta O li usi O non li usi In più Se scegli La difficoltà Che abbiamo scelto Noi in questo momento Quindi la massima Non puoi utilizzare Rewind Quindi Anche volendo Non puoi inserirla In carriera Nella tua Nelle tue opzioni Ma se vuoi Rewind Devi giocare Una difficoltà Un pochino Più bassa Però A mio parere Poter dare Ai giocatori La possibilità Di usare Un solo Rewind Due soli Rewind Tre soli Rewind Non è male È una cosa Che fa Intanto abbiamo Passato il secondo Il primo Lo vedo Troppo lontano Abbiamo Poco tempo Per arrivarci Non ci arriveremo Ecco vedete Che sta salendo Che brutta Questa Come l'ho presa male Secondo me Poi ci sono anche Le gare Quelle Molto lunghe Dare Magari La possibilità Come fa Codemasters In Formula 1 Di scegliere Di prendersi Speriamo che sia così Perché è un peccato Assolutamente Sono d'accordo con te Assolutamente Di prendersi Quel bonus Da tenere lì Del L'unre wind Cavolo Se sbagli La curva L'ultima curva Della gara lunghissima Sotto la pioggia Dove hai pianto In arabo Secondo me Sarrebbe una cosina Carina Però Evidentemente Solo Codemasters Ha fatto Questa scelta Invece Saluto Con piacere L'inserimento Delle prove Come vi dicevo Prima Se andate a leggere La mia recensione Di ride 5 Il fatto Che invece lì Non ci fossero le prove Neanche opzionali Nella carriera È una cosa Che mi ha dato abbastanza Fastidio Perché io Onestamente In una carriera Ritrovarmi Su mezzo nuovo Su una pista nuova Che non conosco Senza aver la possibilità Di fare una prova Essere sballottato Subito in gara È una cosa Che trovo Problematica Soprattutto Per chi ama Giocare Con un certo livello Di Di assenza Di aiuti alla guida Quindi Con pochi Aiuti alla guida Volevo dire Fatica Me la tengo male È una cosa Che ho gradito molto Che ragazzi Vi assicuro che È un piacere A proposito Di Codemaster Oggi è uscito Il video di gameplay Di EA Sports VRC Allora Grande Grande Perché tiri fuori Un altro discorso Che mi interessa Assolutamente Spero di poterci Mettere le mani Spero di poter Fare la recensione Se non potrò Fare la recensione Sicuramente Ci metterò Sulle mani Perché dai Diciamoci La verità I VRC Di Di Kyloton O Kyloton Non so come si leggessero Non erano Terribili Però Mamma mia Però Erano Erano Assolutamente Migliorabili Alcuni episodi Ne sono usciti Otto Se non sbaglio Alcuni episodi Sembravano un po' L'autocopia Di quello precedente La carriera Iniziava un po' A stancare Sono molto contento Per quanto Kyloton Secondo me Ha fatto Ha fatto Dei discreti lavori Non voglio assolutamente Sputare su di loro Ok Siamo arrivati Secondi Bravi noi È stata dura Ve l'assicuro Che è stata dura Eh tra l'altro Con la nostra stessa vettura E con le nostre stesse IP Però Abbia staccato Il giro migliore Vuol dire che Nel giri Non migliori Ho messo Diverse cappelle In pista E quindi me la sono meritata Vabbè E no Ti dico Sono molto Sono molto interessato Mi fa pensare Un po' E Non so Motor Dimmi se sei d'accordo Il fatto che Il gioco Sia venduto A prezzo budget Perché ho visto Che la versione standard È Venduta Mi sembra A Qui ok Tutto quello che abbiamo sbloccato Va bene Viene A 49 euro Quindi mi chiedo Spero che non sia Sentore di Produzione minore Ecco Per quanto purtroppo Il mondo dei rally Non ha La pil Che può avere La formula 1 O quant'altro Ok Allora Ragazzi Abbiamo guadagnato punti Punti della vettura Siamo partiti a livello 1 Vedete che ora siamo a livello 3 Vedete che di in fondo Adesso i nostri punti disponibili Sono 200 in più Facciamo il potenziamento Ravido Molto probabilmente Potremo inserire Qualcos'altro in più Non l'ho visto Ok Sì Siamo saliti Siamo saliti Di 5 ip Non è un gran che E se avete voglia Di vedere Qualcos'altro Qualche altra tipologia Ditemelo eh Assolutamente No dai dai Una cosa ve la faccio vedere Una cosa ve la faccio vedere Niente Niente Abortiamo questa gara Perché Visto che Sfrutto il fatto Che siano presenti Dirt 2.0 Dirt 2.0 Dirt 2.0 Forse dai Era anche un pochino troppo Un po' permissivo Forse Però vabbè È stato assolutamente Un gran gioco Assolutamente Allora Io volevo Farti vedere Ehm Gioco Vabbè Sempre i rivali Però Qualche Qualche vettura Un pochino più Un pochino più Impegnativa Allora Eh Che ne dici E ci sono anche queste Ci sono anche queste E E Il modello di guida Cambia Da così A così Eh Sì 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 Sono d'accordo con te Sono assolutamente D'accordo con te Poi ad esempio Adesso Ehm È uscito Il nuovo Assassin's Creed Che tra l'altro Abbiamo recensito La recensione è uscita Oggi Non l'ho fatta io Perché Ero qua Ero qua Impegnato Con forza E Quindi assolutamente Non avevo Non avevo il tempo Così A primo occhio Anzi A primo orecchio Sono delle auto Eh Sì 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 Marco Assolutamente Assolutamente Migliorato Ora Non so Non so Non so quanto Riusciate a sentire Perché Ho dovuto bilanciare Un pochino In modo che non Non desse fastidio Perché poi La trasmissione È sempre un po' Ovattata Però Però assolutamente Migliorato Qua vabbè Primo giro Quello che è Non sono lanciato Quindi ma posso Questo Non l'ho controllato Posso fare già Il salto a giro E partire già Tutto l'impianto sonoro È migliorato E Guarda Mi dice una cosa Che mi aiuta molto A tornare al discorso Che stavo facendo prima Cioè del fatto che Un'ottima grafica Stupenda Un ottimo modello di guida Il contorno Un po' Un po' così E col sonoro Mi aiuti molto E ti dico anche perché Allora I motori Il rumore degli stridi Delle gomme Il rumore della macchina Quando tocca altre macchine Quando facciamo I mozzi Oh mamma mia È perfetto È veramente ottimo Secondo me sono andati lì Col campionatore In pista E hanno lavorato tantissimo Poi Tutto quello che di contorno Che quindi non è necessario Dov'è? Non ci sono musica in game A parte la musica nel menu Tu non hai una musica In game Mi direi vabbè A me che me ne frega Della musica in game Ma infatti Ti sto parlando Di un Di un fattore Secondario Un simulatore Un pseudo Simulatore di guida Cosa Cosa deve avere in game Però Siamo sempre stati abituati Ad averci Le queste musiche No? E Sì Tu puoi usare Spotify Puoi mettere Spotify Dentro la tua Xbox Questo ti permette di utilizzare Dentro tutti i giochi Compreso Forza La tua playlist di Spotify Tutti abbiamo Spotify? Non è che io per avere la musica in game Devo essere costretto ad avere Spotify Ripeto Mi sto attaccando È un pelo nell'uovo Assolutamente Però questo ci fa capire Come si sia lavorato Tantissimo Tantissimo Sui cardini E un po' meno Su quello che poteva Rendere L'esperienza di gioco Un pochino più Amichevole Però vai tranquillo I motori Ottimi Dove è andato il nostro Questo? L'ho staccato così tanto? Oppure No Il fatto che sia uscito Mi ha fatto perdere il Mi sa di sì Ma Motor Dimmi un po' Solo macchine Solo macchine O anche moto Che Io aspettavo No no L'ho superato L'ho superato Questo è un altro Mamma mia Come mi ha fregato Come l'ha presa Bravo 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 Che io aspettavo Come un Messia Ride 5 Di Milestone Deve essere Cioè È stato il primo episodio Del team Italiano Dedicato alla sua Saga motoristica Solo per nuova generazione Mi è piaciuto Ho dato un 8 Ma Speravo in qualcosa di più Onestamente Poi però Quando ho giocato Mi sono reso conto Che Non c'erano i presupposti Per Per fare Per fare quello Step in più Magari mi dirai No guarda io Giochi di macchine Basta Quindi sto zitto E la smetto Questo non lo prendo No no Questo non lo prendo Fuori pista Ma non dovrei aver preso Però ecco Io già qua Inizio a sentire Un pochino Ragazzi però Giocare Guardate Ecco La moto in garage Quindi zero musiche Credo Esatto Esatto Marco C'è la musica Nei menu E basta Cioè capito Non Non mi cambia La vita Nel gioco di guida Però Sono quelle cosettine Però ti ripeto Era gioco Non cambia Assolutamente Ecco Ritorno un attimino Ad andare A farvi vedere Il livello Di Di Attenzione Nella creazione Guardate Guardate Io capisco Che Andando a leggere Qui siamo A uno zoom Qui siamo A uno zoom Del 20 20 per Guardate cosa Stiamo andando a guardare E non venitemi A dire Che è squadrettato Il tappino Della gomma Dello pneumatico Eh raga Assolutamente Cioè Questi ragazzi qui Turn 10 Ma per fare ste cose Ma quanto cavolo Ha lavorato E ripeto Anche Gran Turismo 7 Che ripeto Amo alla follia Ci ho giocato E ci gioco tantissimo Mi diverte tantissimo E ho qui Ho dato lo stesso voto Assolutamente Lo stesso voto Perché merita tantissimo Poi però In gara I 60 fps Con questa qualità Del Nello specifico Dei particolari Non ci sono Qua I 60 fps Ci sono E Sono su Series X Sì 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 Sono su Series X Andiamo a vederci ancora Un'altra macchina Poi Il nostro tempo A disposizione È concluso Anche perché Stasera C'è Il buon Simone Sempre della redazione Di Game Surf Ovviamente Che deve portare Il nuovo Assassin's Creed Sono su Series X Sì Allora Usciamo Guarda Marco Lo proverò sicuramente Anche su PC Ho una 3060 E Questa è una bella domanda C'è la Però Secondo me Hanno lavorato Molto bene L'ottimizzazione Lexus Sifal Andiamo a cercare C'è la possibilità Di impostarlo Su un monitor Ultra Wide Su Series X Sai che mi chiedi Una cosa Che non so Mi chiedi Una cosa Che non so Onestamente Però Motor Senti Facciamo così L'andiamo a cercare Allora Marco Andiamo a cercare Invece Motor Nerd Facciamo così Mi Vado a cercare Questa informazione E Te la scrivo Su Gamesurf.it Nei commenti Sotto la recensione Del gioco Tanto la trovi La trovi in home Adesso Allora No Facciamo prima Facciamo prima Selezionare i rivali Di che classe sarà Però Gioco libero Dai Rapida Ecco Magari State anche Sentendo Il cane Del mio vicino Che abbaia Io qua Però Dovrei poterle Mettere Dovrei poterle Mettere Come Io tra l'altro Non vedo Tutte Tutte le informazioni Che vedete voi Perché Ci sono delle parti Di schermo Che sono coperte Da Dai menu Di Twitch Allora Facciamo così Allora Temo che quella Che mi chiedi tu Ancora non ci sia Temo che quella Che mi chiedi tu Ancora non ci sia Ti posso Ce n'è un'altra Che ti può Soddisfare Quella più 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 Spinta Mi sembra Questa Quindi Guarda io nel dubbio L'acquisto E ci facciamo Un bel giretto Bella così Bella il doppio colore Ok Comunque ragazzi Ora A parte A parte Tutto E' abbastanza Chiaro Che il gioco Mi è piaciuto Accetto tutto Si accetto tutto Mi è piaciuto Veramente tanto E Non so proprio Ma l'ho scelta La macchina Cos'è sta roba qua Mettiamo la base Le 5 regole Esperto Salve Me la fa scegliere La macchina Sì Perfetto Mi è piaciuto Veramente tanto E Ripeto Se Se seguite Gamesurf Da un po' Sapete Che E' molto Difficile Per me Sbilanciarmi Sbilanciarmi Molto Spero Che il motore Possa Soddisfare Il nostro Buon Marco Ah Però secondo me Non prenderò Una collisione Perché Non è colpa Mia Altra macchinuccia Bella pesante Eh Un'altra Macchinuccia Bella pesante Qua forse Sono stato Un po' Paragno Comunque Comunque Visti Leak Che sono usciti Su Il futuro D'Xbox Microsoft Deve Deve Sbrigarsi A tirare fuori Un controller Con Un sistema Adattivo Come il DualSense Perché I giochi di guida Su PlayStation 5 Attualmente Con Dal punto di vista Del controller Hanno una marcia in più Non c'è dubbio Questo non vuol dire Che Che Gran Turismo Sia meglio di Forza Assolutamente Ripeto Per me Sono giochi Che la giocano Alla grande Però ragazzi Io penso Che Forza Motorsport Con Un controller Adattivo Come il DualSense Avrebbe spaccato Ancora di più Poi l'economicità Del controller Dell'Xbox È È stupenda Ma Quel fattore Lì Appunto I grilletti Che rispondono Alla situazione In pista Nella guida È Tantissimissimissima Roba Ma sono sicuro Che manca Manchi Veramente poco Ad averli Anche Su Xbox Comunque ragazzi Se non siete sicuri Ma avete il Game Pass Vi ricordo Che il gioco Dal 10 È disponibile Su Game Pass Invece Se avete la versione Premium Del gioco O se avete comprato Anche solo L'upgrade Premium Mi sembra 35 euro Potete iniziare A giocare Da domani Ma Se non siete Convinti Se il gioco Vi interessa Ma non tantissimo Ragazzi Game Pass Si aspetta Al 10 Lo si prova Se ci fa schifo Si va sulle Pagine di Game Surf Sulla recensione Del fondo E lo si insulta Tanto C'è abituato Allora Ah I'm Finals Ciao Ciao Benvenuto Il menu di gioco Le macchine italiane Ma certo che si Guarda Ho ancora 5 minuti Ma Te dimostro Estremamente Con piacere Se hai qualche Richiesta specifica Dimmelo Allora Menu di gioco Qua siamo in home Qua hai le novità Dove ovviamente Il team di sviluppo Ti farà sapere Durante Le varie settimane Qui siamo ancora In fase Di recensione Quindi Insomma Non c'è proprio tantissimo Qui Gare Dove puoi scegliere Carriera Multigiocatore Gioco libero Rivali E multigiocatore privato Che poi è sempre Multigiocatore online Però dove ti fai tu la tua stanza Quindi non giochi Pubblicamente Qui Le auto Poi ce le andiamo a vedere insieme Ok 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 Dimmi tu Dimmi tu Quando ci sei Dimmi tu Quando ci sei Io ti aspetto Con piacere Te lo scrivo anche Perché secondo me Se c'è la pubblicità Io ti sto parlando E tu non mi senti Guarda Motor Sfondi una porta aperta Ragazzi Ha tirato giù Una genialata Che ti devo dire Premonestando che a me Onestamente Puoi capire Facendo questo Facendo questo Un ruolo di recensore E Console in casa ci sono tutte Il pc c'è Però I trigger adattivi Sono Sono una bomba Sono veramente una bomba Eccoci Ok eccoci Allora Non so fin dove hai visto Però ti dicevo C'è qui le novità Le classiche Novità Che ancora però Il gioco non essendo uscito Non Non c'è nulla di che Le gare disponibili Che sono la carriera Il multigiocatore Con tutto il resto del mondo Il gioco libero I rivali Giro veloce Diciamo Contro i ghost Degli altri giocatori Il multigiocatore privato Sempre online Con i tuoi amici Le auto Le vediamo dopo Pilota Attualmente La personalizzazione È quella che ha Niente di che Media Qua nei media puoi vedere Le foto E i video Che hai raccolto tu Il negozio Mondo DLC Vabbè Qui per ora C'è I pass Che Per fortuna ho E le impostazioni Le classiche impostazioni Ti faccio vedere Le auto Qui Hai tutte le Guarda qui Poi Ok Per ora Guarda Per ora Non ci sono ancora Tutte le auto Hanno già detto I pacchetti Che arriveranno Queste sono le prime 500 e qualcosa Qui puoi vedere L'alfa Niente di che Poi Abbiamo Non ho ancora visto Non ho visto Abarth Il preparatore Che ci avrebbe regalato Una bella 500 Come al solito Allora Andiamo avanti Ok Poi Vabbè Bugatti Francese Bugatti Francese Quindi Anche se Lui era italiano Ma Poi 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 Appunto Purtroppo Non c'è Fiat Ferrari Naturalmente Con diversi modelli Come puoi vedere Insomma Non ci possiamo lamentare Guarda Guarda Che chicca Che c'è qua Guarda Che chicca Che c'è qua E Tra l'altro Abbiamo anche La possibilità Di andare Come dicevamo Prima E guardare La vettura Nei minimi particolari Guarda Te Direi Ragazzi Che lavoro Fatto È Veramente Veramente Grande Io ripeto Non riesco a capire Chi mi parla Di grafica Guarda Guarda Qui Chi mi parla Di grafica Di basso livello Andiamo avanti Andiamo avanti Perché ovviamente Sai dove vogliamo andare Eccoci qui E anche qui Ti assicuro Che il parco Lamborghini Come puoi vedere È Assolutamente Assolutamente Di altissimo Livello Oddio Qua Lola Mi ricordo Lola Lola Penso che sia italiana Sai Almeno lo era Va bene Qua Abbiamo un po' Di tutto Non veramente Tanto Abbiamo Veramente Tanto Qua Va bene Ti sto facendo Un po' Vedere Tutto Eh Anche se tu mi hai chiesto Uno specifico L'italiano Però insomma Penso che dare Un'occhiatina In generale Non ci dispiaccia Sì 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 Assolutamente Grazie Filo Benvenuto Anche a te Allora Ragazzi Mi spiace Ma come vi dicevo Anzi Abbiamo sforato Veramente tantissimo Nel tempo A nostra disposizione Ma nei prossimi giorni Assolutamente Tornerò Perché il gioco Merita tantissimo Dobbiamo Dobbiamo assolutamente Sviscerarlo insieme Eh Qualsiasi cosa Sotto Eh La 24 ore di Le Mans C'è Vero La 24 ore di Le Mans Attualmente In carriera Non l'ho trovata Ma tu ti puoi andare A creare Tutto quello che vuoi Assolutamente Allora Ragazzi Eh Se avete domande specifiche Su Gamesurf.it Sotto la recensione Scrivetemi pure Io Vi rispondo lì Ma mi preparo anche Per la prossima diretta Adesso Però Vi devo salutare Perché Come vi dicevo C'è il buon Simone Rampazzi Che scalpita Perché Eh Oggi Non c'era solo La fine dell'embargo Per Forza Motorsport Ma anche per il nuovo Assassin's Creed Quindi Il buon Simone Rampazzi Ci mostrerà Quanto Gli è piaciuto Il nuovo Assassin's Creed Ha Vabbè Ve lo dico già Ha dato una Grazie mille Amifinals Sei Molto gentile Mi fa molto piacere E Anzi Quando si riesce a fare due chiacchiere Qua sul Sul canale Sono Sono veramente felice E Vi dicevo Simone Rampazzi A Assassin's Creed Ha dato un 8 Lo seguirò con voi Perché Voglio Sono molto curioso Però Per quanto riguarda Forza Continuiamo A guardare un po' Le novità Anche perché Come vi dicevo È uscita da pochissimo Una nuova patch Ancora in fase di Di recensioni Che ancora Non ho Sviscerato Io Vi auguro Una Una bella serata Grazie a voi Grazie a Amfinals Grazie a Motornerd Grazie A Most Marco Grazie Oddio Non vi trovo A Marco GSD A tutti quelli Con cui Elcat41 A tutti quelli Che mi hanno fatto compagnia Siete stati Veramente Veramente Gentilissimi Io Vi auguro Una buona serata E Per qualsiasi cosa Ci continuiamo a vedere qua Sulle pagine di GamesurfTV Ciao belli Questo è il momento In cui Vi ho salutato Ma ancora Non sono andato A Terminare La Diretta Ora ho trovato Il pulsante Per terminare La diretta E vi posso salutare Per davvero Ciao